Anche Francesco Schiavone, Sandocan, uno dei padrini storici del clan dei Casalesi, ha comunato dalla sorte a Matteo Messina Adenaro, il boss che ha finito la sua vita all'Aquila, al carcere Le Costarelle, regime di 41 bis. Anche di lui si dice che sia malato, ma non ci sono conferme ufficiali e tutto avvolto nel massimo riservo, proprio perché la notizia è che ha deciso di collaborare con la giustizia. Di certo, se Schiavone avesse anche lui un tumore, ma da quel che filtra ancora non avrebbe incontrato i medici, si ripeterebbero le stesse scene viste per Messina Adenaro. Con trasferimenti in ospedale e cura in carcere, ma con misure di sicurezza ancora più stringenti, visto il suo pentimento. Da 26 anni in carcere, sottoposto al 41 bis, era rimasto uno degli irriducibili della camorra casalese. Oggi occupa l'Aquila, la stessa cella che fu di Messina Adenaro. Dagli appalti alla questione rifiuti, le rivelazioni del pentito potranno chiarire molti aspetti. Secondo le carte, il boss godeva di sostegni politici, era in grado di influenzare gli appalti, riusciva a condizionare il voto. Prima di lui, molti anni fa, si era pentito il cugino Carmine Schiavone. La sua latitanza finì a casa di Principe, la sua città, nel 98. Incella ha continuato a comandare, ma anche i suoi figli hanno iniziato da tempo un percorso di collaborazione con la giustizia. Schiavone fu mandante di decine e decine di omicidi, in una faida lunga, quella con la famiglia De Falco. Sulle voci della presunta malattia, queste si sono rincorse nei giorni scorsi per giustificare forse il trasferimento all'Aquila. Se ne capirà più in là, ma di certo la decisione del boss di collaborare imporrà misure di sicurezza ancora più severe.